Ecco l'entrata in campo delle due compagini, seconda gara del campionato provinciale Juniores, anzi correggo, campionato regionale, tra la Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallorossa e l'ortona calcio con la divisa nera. Il direttore di gara è il signor Sarchese della sezione A di Lanciano. C'è lo scambio. Ok ragazzi dopo la panchina subito mettetevi in posta che vi faccio la foto. Andate a saluto. Piazzatevi. Dopo io all'intervallo. Allora seconda gara di campionato Virtus Castelfrentano, ortona calcio. Qua la nostra panchina. mister Gabriele di Felice. È iniziata la gara. Lungo, lungo. Ciao. 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 Ciao.